Fumetologici M.T. Ayers, oggi si va con una recensione impensabile e tutta dedicata a Diabolic, uno dei più fortunati e famosi fumetti italiani di sempre. Siete belli carichi? Allora partiamo! Se state guardando questa mia recensione, probabilmente è inutile che vi spieghi chi sia Diabolic, ma ho comunque voglia di spendere due brevi parole. Personaggio fumettistico che nasce nel 1962 e che subito entra nell'immaginario dei giovani lettori, un ladro geniale, poliglotta, carismatico, con una voce quasi ipnotica e una forma fisica invidiabile. Insomma, non certo me. E comunque quasi un superumano senza però esserlo veramente determinato e assolutamente freddo e deciso un cattivo perfetto, uno di quelli che appena leggi una storia ti rimane dentro. Affiancato poi dalla bella e tenebrosa quanto altrettanto spietata Eva Kent e contrastato dall'altrettanto intelligente e capace ispettore Ginko, che però rimane sempre un passo indietro. A distanza di 60 anni il fumetto è ancora in pubblicazione e ha raggiunto le 900 uscite. Un traguardo non da poco, già in passato è stato realizzato un film dal mitico Mario Bava nel 68 e il successo cinematografico non è arrivato. Questo film dei Manetti Brass ci sarà invece riuscito? Andiamo a scoprirlo. Perdonatemi, so che siete impazienti, ma questo trattamento di attesa che vi sto riservando è assolutamente voluto per farvi aumentare l'hype e per invogliarvi a lasciarmi un bel mi piace. Se non fosse così, passerò alle minacce oscurandovi il resto del video, ma voi siete bravi, lo so, e allora continuo parlandovi dei Manetti Brass, due fratelli registi in attività da un trentennio che ci hanno regalato perle come Zora la Vampira, l'arrivo di Wang e Paura 3D. Si tratta di film che hanno fatto la storia del trash italiano e che dovreste assolutamente vedere se siete amanti del genere. L'ho specificato per il fatto che questo loro passato è fondamentale nel giudicare questo film che risulta di un'italianità paurosa, ma altrettanto affascinante. Adesso si parte davvero. Inizio quindi con il parlare dei punti positivi di questo Diabolic che doveva uscire il 13 dicembre 2020, ma che a causa delle limitazioni ben note è stato rimandato al 16 dicembre 2021. Incredibile, ma vero? Per essere un film italiano dei Manetti Brass mi ha sorpreso incredibilmente nella messa in scena, nella cura dei dettagli, nella fotografia, nella ricerca dei luoghi per le inquadrature, per l'ambientazione anni 60-70 in cui si vuole collocare, per le tecnologie messe in opera e sì, anche per gli effetti speciali, sebbene uno subito all'inizio mi abbia fatto storcere in naso. Insomma, un film che ad impatto visivo si mostra impressionante con un taglio fumettistico che non pensavo. Sembrava di vedere le tavole prendere colore e vita e, come ho già detto, una cura per i dettagli dell'epoca e i modi per cui ancora oggi, se ci penso, mi vengono i brividini. Sembra di vedere un film dell'epoca, appunto, con dialoghi che anche lì sembravano presi fuori dal fumetto e contribuiscono a creare quell'atmosfera che ti avvolge sempre e completamente durante il film. Io adesso forse esagero anche per favorire i vostri commenti a mio rimprovero che questo film, se non è il migliore, è sicuramente nella top 3 degli adattamenti di un fumetto su grande schermo, meglio riusciti. I piani in sequenza, sebbene rallentino ulteriormente il film, sono voluti per dare quell'impressione di scorrere le tavole di un fumetto. Sono rimasto anche colpito dalla sceneggiatura che, ripensandoci, non mi pare presentare alcun buco logico e tutto avviene per un motivo legato ad un naturale susseguirsi degli eventi dettati dal modus operandi dei personaggi coinvolti. In conclusione vanno menzionati anche i costumi molto curati e a tema con l'epoca e le tavole. La musica, che sebbene non sia il mio genere, si amalgama bene con quanto detto sopra per realizzare un prodotto non solo di buon livello ma direi anche di alto. Assurdo che l'abbia detto riferendomi ad un film dei Manetti Bros. Come avrete notato ho elogiato alcune aree di Diabolic perché su altre c'è da ragionarci sopra e parecchio. Andiamo increscendo partendo da quello che è ugualmente accettabile, in primis i personaggi secondari. questi sono caricature, macchiette, in parte anche volutamente grotteschi ed enfatizzati nelle loro espressioni e comportamenti. Questo li fa risultare finti soprattutto perché spesso non sono interpretati da chissà che attori, però non risultano per questo sgradevoli o fuori luogo, semplicemente li rende fumettistici. Scendiamo ancora più in basso e pasturiamo della regia a tratti non ferma, quasi indecisa, lenta e ripetitiva in certi movimenti di macchina. Più di una volta ho sbuffato per certe scene mal riuscite causate da un voler strafare per far vedere che sono bravi e fighi pure loro. Il mio personale parere è che dovevano andare più cauti e usare un filo o meno. Quello che però colpisce alle spalle dal buio della sala è indubbiamente e indiscutibilmente la recitazione degli attori legati ai personaggi principali. Diciamocelo subito, i personaggi sono ben costruiti e aderenti al fumetto, avrei anche voluto vedere con 900 tomi scritti in 60 anni, sarebbe stato solamente voluto sbagliare i personaggi. Quello che è stato sbagliato però è a mio avviso il casting. L'unico che si salva è Valerio Mastra Andrea che sebbene non abbia fatto una delle sue migliori performance è riuscito a trasmettere il suo personaggio o quello di Jinko rimanendo coerente e dandogli anche un certo spessore. Parlando di spessore però scendiamo alla bidimensionalità di Eva Kent interpretata da Miriam Leone. Nulla da dire sulla sua aderenza fisiologica alla femme fatale del fumetto ma è perfetta finché non deve recitare. Lì non mi ha proprio convinto e magari è solo una mia impressione ma ha fatto perdere di forza al personaggio della Kent rendendolo quasi succube di Diabolic. Quando in realtà è molto di più. Quello che però non mi aspettavo è stato Luca Marinelli che dal trailer, con le sole inquadrature degli occhi di ghiaccio, era risultato estremamente Diabolic. Ebbene non solo appena provava di recitare quella parte non era per nulla in contatto col personaggio ma proprio la sua presenza fisica con movenze rigide sembrava appartenere ad un'altra pellicola. Assurdo pensare questo di lui viste le sue performance del passato ma qui è sembrato rimanere anche lui intrappolato e succube di Diabolic non riuscendo a fare suo il personaggio. Insomma quasi un cane maledetto, parafrasando René Ferretti ed è stata una triste ed inaspettata constatazione. In conclusione questo film è da ritenersi un capolavoro per i manetti bros e un segnale che vale la pena dare lavori e speranza a registi e sceneggiatori che imparano dei propri errori. Per gli amanti di Diabolic e di tutti quelli che apprezzano i noir polizieschi e gialli degli anni 60, credo che questo film possa essere ritenuto allo stesso modo un'ottima realizzazione, assolutamente da guardare in sala. Per il resto del pubblico può essere un film interessante ma particolare con tempi lunghi e un modo che non ricorda minimamente quelli dei supereroi attuali, anzi ne è l'antitesi, un film dallo stile inconfodibilmente italiano che ricorda radiodrammi o quelle opere teatrali per la televisione che andavano in moda oltre mezzo secolo fa. Un film indubbiamente affascinante che spero arrivi presto in Blu-ray poiché lo voglio conservare e rivedere più avanti, poi è girato in gran parte a Bologna, città cinematograficamente stupenda ma poco utilizzata. Ultimo pensiero, anche con questo film il cinema italiano dimostra che può uscire da un retaggio piatto e legato ai cine panettoni che nell'ultimo ventennio ha limitato la qualità. Premiate questi film andando in sala come hanno fatto in molti quando ci sono andato io. Rimane ora l'ultima cosa da fare cioè aprire l'area spoiler per parlare un po' della trama. Sfruttate quindi l'occasione per mettere un bel mi piace se già non lo avete fatto iscrivervi al canale. Fatemi poi sapere nei commenti cosa pensate di questo film e ricordatevi di mandare questo video ai vostri amici per suggerirgli di vedere questo Diabolic. Ma ora alziamo lo spoiler e via che partiamo a ruota libera. Come ho detto prima all'inizio della pellicola durante l'inseguimento per le vie di Bologna ma nel film è Clairville, la Jaguar di Diabolic salta sopra una volante della polizia e lì è palese l'effetto speciale che mi ha fatto storcere il naso. Per chi dice poi che è poco credibile l'uso della rampa pneumatica beh non è che i fumetti americani abbiano trovate migliori e ricordatevi che siamo negli anni 60. Altro punto surreale possiamo considerarlo la cena di gala in cui ci viene presentata la Kant. I dialoghi in quei frangenti e le macchiette dei personaggi mi hanno quasi irritato ma l'inizio in effetti con inseguimento non è stato male forse per quello che ha staccato troppo. Quello che non mi torna è però la morte del cameriere dell'hotel che a quanto pare nessuno ha cercato per giorni e giorni. La parte più bella è sicuramente quella finale con il furto in banca dove veramente si vede il genio di Diabolic nel superare gli ostacoli. Ok poco plausibile nella realtà ma dai allagare un cavo di una banca per impedirne l'apertura e poter rubare con la tuta subacquea è tanta roba. Mi ha convinto meno la decapitazione cioè anche se Jinko non si precipitava subito non è che ci avrebbero messo più di qualche minuto a rendersi conto che aveva una maschera e Diabolic doveva comportarsi subito come se sapessero che era vivo. Comunque poco male funziona ancora. Quello che più mi ha dato sui nervi è Diabolic che non fa nulla per la sua finta moglie che lo scopre. Ok che la donna è disegnata come una con poco cervello e totalmente ipnotizzata dal suo fascino però dai insomma direi che ho già parlato tanto e anche se avrei altro da dire ve lo risparmio per questa volta. Al prossimo video cari MTIers. Ciao! Ciao!